Come era previsto è passata in aula alla Camera la risoluzione della maggioranza di governo sulla Nadef serviva la maggioranza assoluta, così è stato, 224 sì, 127 no. Abbiamo sentito ai nostri microfoni anche chi ha votato no a questa risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, ovvero il deputato di Italia Viva Luigi Marattin che tra le altre cose ha parlato di incostituzionalità in qualche modo rispetto al fatto di essere ricorsi proprio ad uno scostamento di bilancio, rispetto ad una manovra che atterrerà in consiglio dei ministri proprio i prossimi giorni e ovviamente la maggioranza è soddisfatta per come sono andate le cose, richiama ancora una volta all'estrema compattezza proprio il deputato di Fratelli d'Italia Tonzelli. La maggioranza ha dimostrato ancora una volta di essere seria, compatta, determinata e la stabilità politica aiuta anche l'economia perché questo consente di dare un messaggio chiaro agli investitori che c'è un'Italia, una maggioranza che governa, prende le scelte, se ne assume la responsabilità e rimarrà così per altri quattro anni. Il voto della Nadefa di oggi in Parlamento, questa sera una riunione di maggioranza e poi ovviamente la manovra che approda sul tavolo del Consiglio dei Ministri ed è la manovra l'altro banco di prova importante per questo governo anche rispetto a quelle che sono le critiche che arrivano dalle opposizioni, sanità su tutto. Le opposizioni è normale, critichino, fanno il loro lavoro, fanno un po' troppa polemica e poche proposte costruttive, ma non è un problema. Loro, mentre loro si occupano di fare opposizione, noi stiamo guidando l'Italia con stabilità. Una maggioranza così coesa e compatta in Italia non c'era da decenni ormai e questo è anche una fonte importante di sicurezza anche per la manovra, anche per gli investitori, quindi grazie anche alla solidità della maggioranza dimostrata ancora oggi in Parlamento questo governo darà le risposte che servono agli italiani.